L'obiettivo è scalare i vertici della classifica puntando dritto al secondo posto, perciò si affilano le armi per una rimonta che avrebbe del clamoroso. D'altronde lo Svikat ha già dimostrato di essere capace di simili imprese nello scorso campionato, per questo rinforza le fila della squadra con due nuovi acquisti presentati al Via del Mare in conferenza stampa dal patron Camilli. Si tratta di Riccardo Capoccia, reduce da una stagione in A2 con l'Alghero, al quale era stato dato in prestito, di malavoglia, sottolinea il presidente, proprio dal club Svikat. Perciò per lui è un gradito ritorno a casa, dove riporterà il suo grido di guerra nella mischia. Danilo Santillo invece, mediano d'apertura classe 90, viene dalla A2 con i gladiatori sanniti e in ultimo da altre puzzi e potrà essere il ricambio del coach che fino ad ora ha ricoperto quel ruolo. Un po' di peperoncino nel momento in cui serve, sono ragazzi particolarmente brillanti, svegli, uno un litissimo ritorno, un altro un acquisto voluto, però per dare a quel reparto maggiore incisività. Un pezzo che abbiamo proprio indovinato. Quanto al campionato, lo Svikat è al settimo posto su 12 squadre con 27 punti, a 16 dalla seconda in classifica. Il Frascati, una distanza non eccessiva se si considera che le vittorie nel rugby possono valere anche 4-5 punti. Importante perciò sarà la prossima partita con il Ragusa. Una partita da vincere a tutti i costi per fare punti quindi, perché poi arriverà in casa la guerrito Reggio Calabria, che vanta una formazione notevolmente rinforzata. Grazie. Grazie.